allora buongiorno a tutti e buona domenica a tutti quanti siamo questa breve penso breve escursus musicale parlando questa volta un po sia di musica elettronica che di black metal come già annunciato ieri sera allora iniziamo subito con un duo avanguardistico di san francisco i su texen che erano formati da due sperimentatori più che da metallari che lavoravano molto sulle stratificazioni sonore delle chitarre e sui diciamo i feedback mutulati quindi il loro black metal era al di sopra di ogni stereotipo diciamo metallaro classico non usavano quasi mai sezione ritmica ed erano almeno in questo caso qui del loro disco maggiore che è behind the throne è uscito nel 2012 loro si formarono alla fine del 2008 2009 al san francisco e questo disco qui diciamo rappresenta un po il loro vertice artistico e è uno dei dischi più originali di black metal degli ultimi anni e diciamo lo stile è abbastanza imparentato con le cose più sperimentali della crucial blast però a differenza della crucial blast che comunque aveva un impianto sonoro abbastanza diciamo potente anche a livello di ritmica qui è proprio praticamente un black metal ambientale fatevi conto come certe cose che aveva provato pioneristicamente a fare bursum con l'elettronica con filosofem solo che qui l'elettronica proprio elettronica fatta con tastiere così simili e non c'è ed è tutto fatto su stratificazioni chitarristiche il disco è abbastanza breve dura mezz'ora ed è composto da due suite di un quarto dura luna una per lato chiaramente sul cd è un pezzo intero di 30 minuti e praticamente sono stratificazioni chitarristiche molto dissonanti ma al contempo stesso anche molto coinvolgenti c'è tanto da dover dice spegnere l'amplificatore o spegnere il lettore cd quindi se uno si entra nel mood adatto della musica proposta è un po come entrare in un disco anche di kraut rock per esempio faust o anche su un altro caso dei popolvù su un punto di vista mistico quindi diciamo la loro esperienza musicale soprattutto catartica di catarsi musicale e praticamente queste due sinfonie che hanno variazioni minime e increscendo ma non solo increscendo nel senso rumoroso proprio anche con modulazioni che pian piano ogni tot battute cambiano stile ma chiaramente bisogna avere la pazienza ma la pazienza si apre che poi alla fine dura solo mezz'ora di ciò che propongono si ha un effetto statico che potrebbe essere in certi casi facendo le dovute proporzioni chiaramente anche una certa psichedelia che ne so anche di roi montgomery o di flying saucer attack specialmente quando collaborarono insieme di un unicum sonoro fatto praticamente praticamente di un tappeto di queste chitarre distorte ma non troppo alla fine abrasive ma comunque di impatto chiaramente non carezzevole nel senso che comunque si sente che la matrice black metal è ben presente ed è totalmente assente tutte le banalità tipiche del genere tipo satanismi vari riferimenti a satana anche se magari se volendo sono sottintesi ma non sono mai espliciti quindi non aspettatevi roba tipo mayhem o roba tipo cristiani che bruciano chiese e roba varia questa è proprio pura musica avanguardistica per chitarre non posso dire che sembra glen branca perché glen branca ovviamente non sembra ma è una sorta di musica ambientale rumorosissima per chitarre e il disco è caricato per intero su youtube io l'ho messo nella mia playlist della community lì è diviso in due parti lo potete benissimo ascoltare e farvene un'idea poi parlando brevemente che ieri ho un po' accennato in questi giorni della DFAI la prima compilation uscita dalla DFAI e credo nel sito compilation 2 ma in realtà è la prima perché la prima non è mai uscita e questo è un triplo cd un cofanetto di triplo cd di tutti i collettivi della DFAI e questo io lo comprai usato a disfunzioni musicali pagandolo in qualcosa come 10.000 lire 5 euro di oggi per tre cd molto ben stipati di cose edite e inedite di tutti i collettivi della DFAI uscito nel mi pare appunto nel 2005 proprio agli albori proprio dell'etichetta il disco è fondamentale per avere un'idea appunto di ciò che era questo collettivo di musicisti elettronici che si rifacevano appunto a nano new york di brianino ma non solo a quella si rifacevano anche alla lovely music di peter gordon anzi domani vorrei parlare della peter gordon e la lovely orchestra che io recensì su che appunto ho ristampato dalla DFAI che recensì su onda rock anzi se volete basta che digitate dentro il motore di ricerca di onda rock l'overlife orchestra extended 90s uscirà fuori la mia recensione io purtroppo perché su youtube non fanno linkare link esterni che non sono di youtube te li cancellano immediatamente altrimenti l'avrei linkata io e quella lì la recense io e lo stesso peter gordon mi scrisse una bella mail di ringraziamento per aver proposto quel suo capolavoro che raggeneva insieme appunto alle p e altre rarità di quel periodo il disco scena 2011 e la cosa ovviamente mi fece molta soddisfazione perché ecco ecco la cosa buona di tutto questo che io ho fatto in questi anni seppur i guadagni sono stati molto magri è che ho conosciuto musicisti dal vero veri musicisti no Vasco Rossi veri musicisti e ho avuto contatti anche poi di amicizia duraturi con alcuni come per esempio ho avuto David Paio degli Slint altri con cui siamo rimasti tuttora in contatto anche se ormai ho un po' appeso diciamo la chitarra al chiodo come si dice però insomma i rapporti umani se uno ha un minimo di rapporto umano d'amicizia quella non scompare quella rimane sempre rimarrà sempre con noi ecco vi giro un attimo per farvi vedere la track list se si vede bene qui abbiamo allora alcuni nomi più sconosciuti poi abbiamo Black Leodar Front che adesso non mi ricordo poi abbiamo Juan McLean che era uno eccolo qua Juan McLean che era uno dei Six Finger Satellite che faceva una sorta di Giorgio Moroder qua in versione disco punk i Rapture poi abbiamo Delia Gonzales e Gavin Russom che facevano praticamente un Asher a Temple versione Klaus Schulz e Juan McLean un'altra volta i Black Dice Air CD Sound System ancora Air CD Sound System Black Dice ancora Delia Gonzales eccetera eccetera sempre i Rapture Juan McLean sempre i Rapture cioè più o meno i nomi sono sempre un po' quelli tranne qualche nome un po' più sconosciuto tipo i Joy che non mi ricordo adesso dovrei riascoltarli però erano praticamente non erano pezzi già editi su disco o erano in versione 12 pollici quindi completamente diversi da ciò che si trova nell'LP ma alcuni pezzi erano veramente inediti e questi 3 CD insomma sono un ottimo compendio un ottimo bignami per sapere cos'era questo collettivo anarcho-punk-funk insomma e questo è un disco che se riuscite a trovarlo io ve lo consiglio perché qui praticamente avete un'ottima panoramica di tutto quello che era appunto questa etichetta e questo insomma è consigliato poi invece passando su cose leggermente più recenti che tra l'altro l'amico Vittore Baroni ha preso spunto da me per recensirli perché a me la Cherry Redman mandava i dischi gratis e io glieli proposi anche a lui quella fatti mandare queste cose per farle recensire su orumoro su blow up ecco abbiamo per adesso questa compilation in 4 CD close to the noise floor questa è la prima uscita della serie ho messo fuori catalogo e su discog se le vendono tipo 80 euro ormai sono libretti con 4 CD dentro di tutti i gruppi artisti formativi infatti c'è scritto no? formative UK elettronica sono tutte le cose degli anni 60 fino agli anni 80 alcune conosciute alcune complemente sconosciute che sono state fondamentali per la nascita sia della dance floor quella alternativa ma anche della musica industriale e tra l'altro il disco dentro è fatto molto in maniera molto molto notevole perché tiene appunto qui i CD vedete qua i 2 CD ve li inquadro bene poi dentro c'è tutto un bel librettone molto succoso molto succoso con copertine e cose varie rimasterizzazione ottima e qui gli ultimi 2 CD dell'otto ed ecco qua la tracklist qui troviamo un po' un po' di nomi alcuni noti alcuni meno meno noti che più noti per esempio Thomas Lear che era uno che cedeva per l'industrial records dei Robin Gristel che è stato un pioniere del synth pop quello d'avanguardia poi altri appunto leggermente Chris & Cosey dei Robin Gristel abbiamo ancora Oyuki Kyo Newgate che erano industriali che poi erano del giro dei Zoya France i British Electro Foundations che erano in lato diciamo quello industriale degli Human League abbiamo altri che poi alcuni mi ricordo poco perché John Fox per esempio abbiamo Adrian Smith ma non quello colchitarrista ovviamente di Iron Maiden che abbiamo ancora Human League Deathly Program poi alcuni appunto sono sconosciuti che vanno ascoltati ma sono delle vere perle che abbiamo ancora i DS3 i Robin Gristel gli Atridion che facevano la prima EBM e Construx che erano mi pare di stampo industriale e Rinaldo Endeloff che ci devono operare altri records e altri che voi vedete insomma Gilbert degli Wire o Yuki con Yugate un'altra volta eccetera questo è quello dedicato appunto alla Formative UK elettronica 7584 appunto qui c'è scritto tutto l'altro capitolo che io ho anche questo molto raro è quello invece dedicato alla stessa scena però quella americana del 7584 anche questi sono 4 cd stesso coso con i cd 4 cd messi qua librettone qua come come di consueto anche con i cosi ci sono anche i residence vedete l'avete visti giriamo vediamo la track list anche qua allora qui abbiamo perché poi non me ricordo richard boone che è stato un pioniere dell'elettronica tra industriale e dance floor alternativo e rhythm and noise prodotti dai residents su rough records dark day che ho fatto vedere il cofanetto che era praticamente il tastierista incognito dei dna poi i suicide rocket 2 6 abbiamo ancora i residents philip glass in un pezzo inedito abbiamo ancora altri che non mi ricordo del chrome terry riley lori spiegel che era una delle prime donne al sintetizzatore insieme a susanziani che faceva praticamente una sorta di sperimentazione tra minimalismo e morton subottimic patrick rowley i non che sarebbe body rice che era il troppo ingrista l'americano i chrome pure qua altri nomi minori che adesso francamente non mi ricordo perché questi dischi oltre ad averne 100.000 alcune cose i tax the moon i factrix sempre sulla subterranean e mi sembra anche sulla etichetta the residence steve roach i ministri i ministri proprio primissimo primissima accarnazione non quelli ancora diciamo industriali che ci stavano avvicinando i controlli bleeding grandissimi che facevano praticamente un noise elettronico industriale su cui ci ricapiteremo questi uscirono per il 2019 io sta roba la recensionevo tutta su su on the rock me la regalavano adesso chiaramente a vendola potrei pure fare dei soldini ma me li tengo perché insomma l'affetto è ecco Mark Barreca anche ed altri che voglio ascoltare perché adesso mi ricordo poco allora ragazzi per adesso oggi è tutto penso che vada bene continueremo questo discorso sia su black metal che sull'elettronica e poi vorrei parlare anche di gruppi che mi sono venute in mente da poco grunge minori minori fino a un certo punto perché comunque erano bei recensiti anche dalla sap pop come i love battery o altri tipo i i i i i mi sembrano si chiamassero i i i i i i i c'erano dei gruppi che comunque valevano i search e che torneremo adesso in questi giorni adesso siamo arrivati quasi a 20 minuti di video quindi penso che vadano bene ragazzi miei caro lost ti saluto sempre molto carapente saluto anche giuseppe se in ascolto io sto qua quando volete ragazzi sapete dove trovarmi sto qua in qualsiasi cosa qualsiasi consiglio qualsiasi anche dritta d'amicizia sto qua io sto a roma raramente cioè io mi sposto da roma ma sapete che ho molta nostalgia della mia città quindi io più di tre giorni non mi assento sto sempre più o meno entro questo raccordo anulare e a due chilometri dall'appia antica da dove abito quindi meglio di me chi sta ciao buona domenica oggi la giornata è brutta quindi non è proprio da passeggio però adesso penso che vado a prendermi un bel bavarese in pasticceria qua sotto casa mia per dulcis in fondo al pranzo appena fatto ciao a tutti grazie